...delle ginnaste nuove, piccole, giovani, in crescita, con delle doti, adesso anche un esercizio interessante, adesso vediamo negli anni cosa ci dimostreranno, certo non sono all'altezza di quelle del 2008, però vedremo col tempo. Recupero però... No, paletta, paletta rossa. Eh sì, perché il cerchio ha toccato il suolo fuori. Molto bello questo passaggio perché i cerchi sono incastrati in modo tale da appunto rappresentare il mondo, però questa posizione la prende in maniera molto rapida. No, paletta, paletta, paletta! No, 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 no. Oh! 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 Grazie a tutti.